... Signore e signori, buonasera, benvenuti al Palaventino di Martina Franca per la 24esima giornata di serie di girone d'intra New Basket Mola e 2S Basket Martini Queste le formazioni per la New Basket Mola Con il numero 3 Davide Piasic, con il numero 6 Emanuele Rusci, con il numero 7 Nicola Bastone Con il numero 8 Francesco Vigoni, con il numero 9 Gianmarco Sorrentino, con il numero 10 Antonello Pavone, con il numero 15 Emanuele Calò Con il numero 16 Federico Angelini, con il numero 18 Danilo Ferruvio, con il numero 19 Matteo De Leone Allenatore Massimiliano Cazzolo Nella 2S Basket Martina, con il numero 4 Roberto Tobacco, con il numero 5 Alessandro Calvi, con il numero 6 Stefano Unico Emanuele Calvi Calvi, con il numero 7 Martina, con i numero 8 comments Verriigo, suglielo Valpingo, con il numero3 Ivanores Perugino Numero 10 Nicola Straddigo, numero 11 55 Begrino, Luiz Cavitano, numero16 Pediano, Spera numero7 Stefano Favisi allenatore Rufio Giacoso, assistente di onorosormatora e anche di Vettemuzzo gli altri sono signor Rocca Piatrino e Piole Fisca adesso tutti i piedi per l'inno nazionale italiano Piatrino e Piole 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 Buonasera dal Palavoitila di Martina Franca non aggiornata del girone di ritorno del campionato di Serie B il girone di importantissima sfida tra il Martina e il Mola in chiave salvezza il Martina è penultimo a 10 punti il Mola è ultimo a 8 punti quindi se in questa partita il Mola vincesse andrebbe ad impattare il Martina a quota 10 punti ma la differenza Canessi ripremierebbe il Mola quindi il Martina finirebbe all'ultima posizione ricordiamo anche che la differenza Canessi è al momento superiore al Mola di 12 lunghezze in quanto all'andata finì con il Mola che ha battuto il Martina di 12 lunghezze quindi importantissimo per il Martina prima di tutto vincere e poi quanto meno cercare di ribaltare la differenza Canessi Pala 2 alzata in questo momento con il primo possesso della partita nelle mani della 2S nelle mani adesso di D'Arrigo esce dal blocco di Spera Bergamin che serve Spera sotto Canestro ma sbaglia il tiro corre il Mola con bastone poi Musci con il semigancio destro non realizza il tiro secondo possesso della partita per la squadra di Coceciaboco il blocco di Spera per D'Arrigo Bergamini blocco di Morgillo rolla Canestro si va dall'altro lato dove c'è D'Arrigo la tripla dell'Argentino primo vantaggio per la 2S Calò poi per bastone il blocco di Musci bastone rolla Canestro arresto e tiro di Nicola bastone primi due punti anche per il Mola quando sono passati un minuto e dieci secondi D'Arrigo in feed sbaglia completamente il tiro ancora bastone serve il roll a Canestro il fallo di Spera e il Canestro il fallo di Musci tiro libero aggiuntivo realizzato 5 Mola Martina 3 Bergamini Airball per lui Morgillo nel tentativo di recuperare palla pesta alla linea possesso ritorna alla squadra ospite Calò porta palla avanti per i suoi marcato da Marisi poi di Donna va dentro poi ancora per Calò si va a vedere spalle Musci marcato bene da Spera lo induce a commettere l'infrazione di passi palla recuperata da Martina buona difesa per la Valeditria si va a vedere intanto da replay alza nettamente il piede perno Musci e sacrosanta il fischio a parte dell'arbitro Marisi riceve in sottomano realizza il Canestro della Parità 5 Bastone va dentro in faccia Spera non va alla conclusione da Rigola passa un passaggio un po' telefonato per Spera rimane a terra di Donna ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo grazie 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 esce di Donna dolorante alla spalla sinistra è rimessa laterale per il Mola affidata Bastone Calò lui si va ancora per Nicola Bastone Favone il tiro da tre è sbagliato il fallo dovrebbe essere di Spera che lottava rimbalzo con Musci parte il tiro di Bastone tenta di fare taglia fuori e lo lo spinge con la mano destra Spera difficile questa chiamata ma intanto esce Spera entra Maritano Calò batte Marisi che non tiene finta di tiro poi va Sum Musci per il tiro sbagliato Bergamin partenza incrociata si ferma perché marcato bene si ritorna dall'altro lato dove c'è Darrigo dal palleggio stava per Sevilla Maritano che però sotto marcato da Pavone subisce fallo Pavone marcava forte Maritano per non far ricevere palla ma commettendo fallo Marisi nell'angolo al lato debole c'è Darrigo catch and shoot sbagliato di Darrigo rimbalzo offensivo per Odel Martina Bergamin spalle Maritano se la gioca uno contro uno quello scarico per Bergamin il tiro dalla lunga distanza sbagliato Pavone sbaglia il tiro può correre il Martina è in superiorità numerica Darrigo aspetta decide di giocare con calma Marisi si prende il tiro da tre subisce il contatto tre tiri liberi per lui realizza il primo Stefano Marisi realizza anche il secondo tre su tre per Marisi otto Martina cinque Mola subito Zampres del Martina bastone calò per Fiume ancora calò due tre adesso zona per il Martina Biasic resta in allontanamento canestro accorcia le distanze è a più uno adesso il Martina prossimo a entrare sarà Kunico Biasic marca stretto Darrigo hesitation di Darrigo in allontanamento gran canestro realizzato da Darrigo più tre di nuovo per il Martina bastone partenza incrociata va dentro e commette fallo maritano su bastone bella partenza incrociata di bastone che brucia sul primo passo per Gamin è proprio lui a uscire da spazio a Kunico bastone il primo tiro libero va dentro situazione falli quattro Martina due Mola il ferro non aiuta al numero sette bianco blu che sbaglia il secondo libero Darrigo il taglio e realizza il canestro più fallo dodici per la squadra arancio-blu il gran canestro di Darrigo totalmente fuori equilibrio realizza anche il tiro libero aggiuntivo Nicolás Darrigo massimo vantaggio continua la pressione della Martina supera agevolmente il Mola bastone poi per Calò Biasic il tiro da tre con spazio è corto ribalzo offensivo di bastone Fiume il tiro da tre solo rete per Ernesto Fiume blocco irregolare di Maritano andiamo dal replay è giusta la chiamata arbitrale blocco in movimento di Maritano che si è mosso per bloccare il difensore bastone arresto tiro assegno Nicolás Bastone parità tredici quando mancano quattro minuti e venti della prima frazione Maritano Maritano si aiuta col piede perno ma sbaglia vicino all'autocanestro Musci possesso che rimane ancora nelle mani del Martina esce Maritano entra pergamino esce Maritano entra pergamino Marisi sbaglia il tiro al ribalzo offensivo di Bergamin Marisi arresto e tiro canestro e il playmaker arancio blu arresto in tiro anche di Biasic sbagliato corre Kunico il fallo di Biasic due tiri scusa non ha raggiunto il bonus ancora Martina Marisi spalle canestro morgillo serve Kunico che sbaglia il passaggio per morgillo palla persa per Martina bastone l'arresto e tiro in allontanamento subendo fallo due tiri liberi per bastone realizza il primo bastone quindici pari tra le due squadre Marisi marcato da Angelini da Rigo il tiro un po' forzato è sbagliato chiede fallo coach ciaboco bastone a gran velocità l'extrapest di fiume per Angelini gran 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 gesto gran gesto gran gesto tecnico di Angelini sorpasso Mola diciassette e quindici per me per me per me per me per me poi da Rigo cunico sette secondi alla fine Morgillo realizza il canestro della parità diciassette due minuti alla fine del primo quarto altro bel canestro del Mola di Donna che evidentemente ha recuperato dal breve infortunio di prima Bergamin da Rigo scarica sotto per Morgillo bella azione della Martina ancora a parità diciannove di Donna bastone marcato da Bergamin ancora resse tiro di bastone sfortunato il numero sette del Mola cunico se la gioca con Musci Morgillo differenza notevole di di centimetri sbaglia però Morgillo bastone di Donna sbaglia il passaggio veloce cunico da dietro trova l'equilibrio cunico Bergamin sbaglia completamente il tiro Angelini alza la parabola di sinistro è sbagliato il rimbalzo difensivo di Morgillo unico unico lo schiacciato per Bergamin assegno si sblocca Bergamin bastone bastone ancora arresto e tiro 21 pari sette secondi alla fine del primo quarto deve fare veloce il Martina Marisi arresto e tiro sfortunato si prende il suo rimbalzo offensivo e realizza il canestro 23 a 21 partita intensa tra le due squadre quindi non c'è stato il tagliafuori su Marisi che è bravo anche a prendere la palla in modo veloce e mandarla nella retina bel primo quarto Martina 23 Mola 21 inizia il secondo quarto Angelini marcato dal neontrato Caroli bastone che si sta prendendo la maggior parte delle conclusioni del Mola sbaglia il tiro Pergamin Marisi unico sette secondi passaggio qui passaggio forte di Caroli anche Maritano riceverla con due mani invece di una Di Donna vede lo spazio fa partire la tripla Francesco Di Donna Maritano realizza il canestro sotto canestro nel pitturato ritorna avanti il Martina Angelini tira il falo di Caroli Di Donna marcato stretto da Caroli che commette il suo secondo fallo canestro di De Leone Bergamin il fallo in attacco di Maritano che ha sbracciato un po' troppo terzo fallo questo di Luis Maritano non ci voleva per il Martina questo fallo è Angelini marcato da Caroli che ricordiamo ha due falli fiume va dentro alza le braccia ottimamente Marisi unico viene fermato da Di Donna Maritano Maritano Bergamin fa saltare fiume tanti falli in questi due minuti cinque in totale tre fischiati al Martina due al Mola unico il tiro da tre sbagliato rimbalzo di Pavone bastone poi per Di Donna libero De Leone sbaglia il rimbalzo difensivo di Marisi Caroli la partenza è incrociata deve il passaggio bastone escono Bergamin e Marisi per Spera è da Rigo riceve palla proprio da Rigo che sbaglia completamente il passaggio poi Angelini che realizza il più tre Spera si prende il tiro forse spinto Morgillo l'arbitro non fischia poi di Donna stoppata di Morgillo il fallo tattico di Angelini per non far scappare il Martina nel contropiede nel contropiede c'è unico unico più c'è un po' Morgillo poi Caroli unico 5 secondi allo scadere il fallo di De Leone rimessa laterale Tarrico pressato in maniera eccessiva da Pavone quarto fallo di squadra per il Mola di bonus due tiri il quinto fallo di squadra quindi due tiri adesso per la 2S che è sotto di tre lunghezze è lungo il secondo il primo di Tarrico realizza invece il secondo 28 Mola 26 Martina Pavone il fallo di Cunico su Di Donna bastone adesso è tiro di bastone canestro di bastone con Morgillo a due passi veramente gran canestro di bastone Morgillo marcato forte da bastone che commette fallo time out quando sono passati 4 minuti all'inizio del secondo Mola è avanti 30 a 26 2 tiri liberi per Morgillo 2 tiri liberi per Morgillo sbaglia per Morgillo sbaglia per il secondo il rimbalzo del Mola il tiro da 3 sfortunatissimo di Don e poi il fallo di De Leone su Morgillo ancora due tiri dalla lunetta per Morgillo escono Cunico e Caroli al posto di Bergamin e Cunico realizza il primo realizza anche il secondo accorcia le distanze la 2S meno uno Cusci marcato da Spera sbaglia non prende il rimbalzo e Martina lo prende in un secondo momento lo raccoglie Spera commette fallo in attacco Spera per Spera è il suo terzo fallo entra Maritano che anche lui ha tre falli quindi situazione lunghi non positiva per il Martina quando siamo ancora a metà secondo quarto scusci contro Maritano Marisi intercetta la palla bastone grande difesa del Martina Marisi con spazio da tre sbaglia buon tiro però preso da Marisi con spazio ma il mole già dall'altra parte con Angelini non esita sbaglia però la tripla Pergamin cade a terra Maritano Mout chiamato dal Mola Mola che è ancora avanti 30-29 a 4 minuti e 25 alla fine può ricominciare il gioco Angelini bastone ancora in allontanamento infermabile Nicola bastone Darrigo arriva il raddoppio poi si libera c'è lo spazio per Morgillo 32 pari entrambe le squadre in bonus De Leone Angelini si va dall'altro lato dove c'è Di Donna il blocco dei musci Di Donna va dentro e con la mano sinistra realizza il canestro del nuovo vantaggio Darrigo il tiro da 3 è corto il rimbalzo difensivo di bastone De Leone di Donnell tiro da 3 è sfortunato ancora rimbalzo offensivo del Mola Angelini va dentro evita la stoppata di Morgillo 36 a 32 Maritano se la gioca contro Musci si avvicina al ferro e realizza meno 2 è veloce il Mola canestro e fallo si fa male Bergamin vediamo dal replay occhio alla caviglia e si forse si è girata la caviglia di Bergamin si rialza però vediamo se può continuare a giocare intanto rientra Cunico al suo posto realizza il canestro Musci più 5 Mola Morgillo De Leone lo sfida al tiro e Morgillo sbaglia bastone per allungare sul più 8 sbaglia però la tripla Cunico passaggio skip per Marisi si ritorna da Cunico il taglio da lato debole di Cunico che serve Maritano col sinistro in sottomanio realizza 39 poi passaggio brutto passaggio di Angelini alla ricerca di Musci Morgillo è veloce a capire tutto da Rigo con convinzione si affida la tabella ma sbaglia Calò il tiro da 3 ancora sfortunato ma è rimbalzo offensivo di bastone che realizza Cunico Morgillo Baglia si butta a terra il possesso in un primo momento era al Mola ma sa di aver sbagliato l'arbitro quindi si corregge e il Martino a disposizione 14 secondi entra Ragusa al posto di Maritano da Rigo poi Morgillo che sbaglia Calò contro Cunico Calò poi per Musci il tiro è da 3 sbagliato sta sbagliando un po' di tiri il Mola da 3 da Rigo non può essere questa l'ultima azione perché c'è una discrepanza di 5 secondi tra i due cronometri Morgillo il tiro da 3 è sbagliato 5 secondi adesso per il Mola 2 secondi l'arresta e tiro di Bastone rimbalzo e di Morgillo finisce qui il secondo quarto Mola avanti 41 a 36 Ricomincia la seconda parte di gioco Punico Spera vede nel pitturato Morgillo da Rigo Marisi poi Kunico da Rigo il tiro da 3 è corto il rimbalzo di Bastone Musci Bastone contro da Rigo occhio al suo arresto e tiro micidiale eccezionale Bastone da Rigo passi giusta inflazione di passi questa di da Rigo fiume poi Bastone poi Calò va dentro di Donna anche contro Morgillo massimo vantaggio di Mola 45 a 36 rientra meglio il Mola almeno al momento rispetto alla Martina Spera Spalacanesso contro Musci perde controllo della sfera di Donna di Donna Bastone poi a segno break importante è quello del Mola 47 a 36 chiamato dal Martina inizia di nuovo il gioco con Marisi da Rigo Spera il tiro da tre è realizzato 47 Mola 39 Martina prova a dare una scossa al Martina dopo un inizio di terzo quarto deludente di Donna il tiro da tre è sbagliato il rimbalzo capita nelle mani di Bastone di Donna ancora e tiro è corto finiscono i 24 nel replay vediamo la tripla che speriamo per il Martina possa cambiare l'inerzia di questa partita cunico il tiro da tre è realizzato meno 5 bastone il piazzato è realizzato spera il fallo di musci spera cambia lato per Marisi morgillo si prende il tiro poi c'è l'assist di da Rigo sul rimbalzo offensivo per spera che realizza bastone fiume la partenza poi musci calò oscurato la vista da da spera ultimo tocco di Mola possesso per il Martina e Marisi porta palla avanti per i suoi riceve spera in palleggio serve da Rigo cunico spera morgillo di sinistro forse stupendo fallo il ferro lo aiuta torna meno 3 il Martina dal meno 11 il fallo fischiato fischiato a morgillo e due tiri per musci realizza il primo Emanuele musci sbaglia per il secondo rimbalzo di cunico il non look di cunico per morgillo che subisce fallo ma non riesce a segnare fa bene così comunque per il Martina due tiri liberi dalla linea della carità per Ivan morgillo sbaglia il primo libero stoppato di donna sulla sua penetrazione spera il tiro da tre della parità è sbagliato Pavone arresto passo e tiro sbagliato il rimbalzo di morgillo morgillo riceve palla aiuta col perno ma finisce per muovere il piede perno commettendo passi vediamo adesso dal replay il piede perno e il sinistro lo muove quindi giusta la chiamata bastone il tiro da tre è sbagliato calò ancora il tiro da tre anche questo sbagliato lottano al rimbalzo martina a essere il possesso per pareggiare i conti va giù da Rigo a essere il nostro Grazie a tutti. 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 Esce anche Cunico e entra da Rigo. Caroli, poi per Marisi, il tiro da tre di Marisi, sbagliato. Ancora Angelini libero. Assegno. Caroli, il fallo di De Leone su Maritano. E' il terzo fallo di De Leone. Due tiri libero, due tiri liberi importanti per da Rigo. 61, 61, 61. 61, Mola, 56, Martina. Molto probabilmente questa è l'ultima azione del Mola. in questo quarto. Martina, 56, Martina, 58. Ricomincia. l'ultimo quarto, l'ultimo quarto, l'ultimo. velocissimo. Velocissimo. De Leone. De Leone, fallo è stato fischiato a Cunico. Mola. Mola allunga su più cinque. sbaglia il tiro libero. Sbaglia il tiro libero. Mola allunga su Maritano commettendo doppio palleggio. Andiamo dal replay. Si gira. Dubbia questa infrazione. bastone in faccia a Morgillo. Realizza il canestro del più otto. Cunico al tiro da tre. Sbagliato. Recupera palla da Rigo. il fallo tattico ancora di Di Donna. Escono Caroli e Morgillo a posto di Marisi e Spera. è il terzo fallo questo di Di Donna. riceve Marisi, marcato da Angelini. da Rigo il tiro. In a feed away. Angelini senza paura. si prende la tripla. In classe 96. Spera contro Di Donna. poi Maritano per da Rigo il tiro da tre. è sbagliato. rimbalzo difensivo di Di Donna che poi serve bastone. Di Donna il tiro da tre. forzato. lo sbaglia. rimbalzo di Spera. da Rigo. da Rigo esce Cunico. sbaglia il passaggio. sbaglia il passaggio Cunico per Maritano. time out è chiamato da coach Ciavoco. momento di appannamento per il Martina. più 11. Mola quando mancano sette minuti alla fine della partita. 69 e 58. comincia la partita con il Mola che può ulteriormente allungare. Angelini poi il fiume. il tiro da tre. è sbagliato. rimbalzo difensivo di Marisi. deve correre il Martina. da Rigo. poi Marisi. Cunico. Morgillo. in avvicinamento. realizza il canesso del meno nove. Biasic. bastone Biasic. il tiro da tre. sbagliato. il taglia fuori di Morgillo. cade malissimo. De Leone. Spera. morgillo. canestro più fallo. speriamo non si sia fatto niente. non sia niente di grave per De Leone. grazie. 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 torna a meno trail Martina Musci Fiume Musci in semigancio lo sbaglia deve approfittarne adesso Martina unico Morgillo importante adesso per il morale soprattutto 10 secondi Spera Marisi il tiro da 3 è sbagliato il rimbalzo il fallo dovrebbe essere di Darrigo sì è di Darrigo il fallo secondo fallo di squadra per il Martina anche il Molani a 2 Fiume la stoppata Morgillo Sbagliato fallo in attacco di bastone Spera Morgillo Marisi Morgilla ancora contro bastone l'ultimo a toccare secondo l'abitro è Morgillo quindi il possesso è del Mola adesso non ne sta approfittando il Martina bastone arresto il tiro sfortunato bravo Spera comunque a darle fastidio Spera il gran passaggio ma la stoppata di Didonna Didonna il tiro da 3 stoppata e tiro da 3 Didonna Darrigo sbaglia la tripla bastone sbaglia però il tiro riparte il Martina con Darrigo Marisi Spera il fallo di Musci Time out in campo chiamato dalla Martina 72 Mola 63 Martina 3 minuti e 13 alla fine della partita realizza il primo Spera realizza anche il secondo di Donna Fiume poi Angelini bastone importante la sbaglia rimbalzo è di Maritano l'ultima a toccare è stato Fiume e quindi il possesso adesso del Martina Marisi Spera Maritano spalle per Darrigo cunico da tre e la sbaglia di Donna contro cunico Musci Canestro più il fallo Canestro del più nove realizza anche il tiro libero supplementare Darrigo il tiro da tre sbagliato rimbalzo di Spera Marisi anche sfortunato il fallo di bastone antisportivo si sbaglia Spera realizza il secondo fallo il secondo tiro libero del fallo antisportivo il tempo passa il Mola comunque è ancora avanti di nove Darrigo va dentro e realizza il Canestro del meno sette pallone finisce fuori ma è la palla ancora del Mola Musci contro Maritano sbaglia rimbalzo di cunico Darrigo Darrigo sbaglia il rimbalzo premia una serie di tocchiere tocchi il Mola Musci il tiro sbagliato ma la palla ancora è del Mola la partita ormai è indirizzata sulla via della vittoria per il Mola sbagliato sbagliato il primo tiro libero sbagliato 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 il secondo mancano 22 secondi e il Mola può scrollarsi da quell'ultima posizione che ricopre da tanto tempo realizza il secondo 2 su 2 77 a 66 maritano il tiro da tre è sbagliato il Martina il Mola batte il Martina 77 a 68 adesso il Martina è ultimo in classifica a pari punti con il Mola ma vincendo entrambi gli scontri diretti ha la meglio il Mola quindi risentici per la prossima partita casalinga nel 20 marzo contro Valmontone l'ultima l'ultima Grazie a tutti